Ciao Goodlier, bentornato, bentornata da Carlo. Oggi parleremo di uno strumento importantissimo, il configuratore. Lo suddivideremo in due parti, in due lezioni. Reggiti forte e legati bene alla sedia o alla poltrona. Sei pronto per il primo salto di qualità, Goodlier? Beh, è il proprio caso di dirlo, in quanto stai per mettere mani sul primo degli strumenti che ti porterà a diventare in futuro un dominatore di computer. Prima di continuare a leggere, rispondi a questa domanda. Sei in grado di progettare una configurazione di computer in maniera autonoma dal punto di vista hardware? Se la risposta è sì, questa lezione non implementerà le tue conoscenze, ma ciò vuol dire che sei ben avanti nel percorso e forse sei già un dominatore di computer. Se invece la tua risposta è stata un secco no, oppure hai detto in che senso, mangia di questa parte del percorso didattico rapidamente. Al termine possiederai le conoscenze per testare questo strumento che con un po' di pratica ti permetterà di creare e configurare il tuo primo computer. Dovrai solo stampare con orgoglio la tua prima configurazione, magari incorniciarla per ricordarti tra qualche anno da dove sei partito. Dopo quest'azione uscirai di casa dirigendoti ad un negozio specializzato in vendita di prodotti informatici, acquistare, tornare a casa, assemblare il tuo pc, accenderlo, installare il sistema operativo e i programmi ed infine utilizzare la tua creatura. Tutte azioni che imparerai col tempo proseguendo il percorso. Fantastico, non trovi? Proiettati nel futuro di qualche mese. Solo un avvertimento però, andrò un po' sul lungo nella spiegazione di questo strumento, semplicemente perché voglio snocciolarti un po' di sfumature necessarie per far tuo il mezzo. In questo caso essere brevi non produrrebbe effetti didattici benefici, credo invece genererebbe soltanto confusione in più. Ma iniziamo. Di che si tratta? Esistono delle persone straordinarie che hanno creato un software installato poi su negozi virtuali specializzati in prodotti informatici. I negozi virtuali sono dei siti attraverso i quali è possibile acquistare prodotti fisici e virtuali. Per virtuali intendo prodotti o servizi che sono fruibili ma non fisicamente palpabili, tangibili, come questa lezione in pratica. Questo software, chiamato configuratore, ha caratteristiche più o meno complete ed efficienti che ti permette tramite una procedura guidata e sequenziale di selezionare tutti i componenti fisici necessari alla creazione di un computer partendo da zero. L'eccezionalità di questo programma sta nel fatto che una persona totalmente ignare in materia informatica sarà in grado di progettare una configurazione funzionante di un computer navigando anche pressoché alla cica. Ma come è possibile? Grazie a dei filtri. Una volta effettuata la prima preferenza, le successive saranno derivate da quella iniziale o precedente e quindi potrai scegliere in piena sicurezza i vari componenti interni del PC, il numero, marca, modello, caratteristiche e prezzo. Alternativa ai filtri è una segnalazione del configuratore stesso che ti notifica, selezione dopo selezione, lo stato della configurazione tramite una finestra di ispezione in cui saranno visibili delle icone specificamente correlate alla correttezza o meno delle preferenze. Ad un ol' del vero c'è da dire che non tutti i configuratori presenti sul web possiedono queste caratteristiche così complete. Alcuni siti infatti forniscono configuratori che presentano la lista dei componenti non filtrata e quindi potreste associare i pezzi in maniera incompatibile. Diciamo che per farla breve, questi configuratori sono indicati per utenti un po' esperti che riescono ad individuare la compatibilità semplicemente leggendo il nome e il modello dei vari componenti. Ok, ma io che faccio? Mi dirai. Sempre la cosa più semplice, utilizzerai configuratori con filtro integrato in modo da ridurre le difficoltà. Ma come accedo ai configuratori? In maniera straordinariamente facile. Apri il tuo browser per navigare su internet e scrivi nella barra relativa l'indirizzo del sito del motore di ricerca che più prediligi, ad esempio Google, Yahoo Search, Bing, Alta Vista e così via. All'interno del campo di ricerca digita le parole configuratori PC e premi invio. Si aprirà una pagina di risultati organici, tipo quella rappresentata qui al lato, nella quale troverai tra i vari esiti della ricerca alcuni siti che mettono a disposizione questo programma. Clicca sopra su alcuni di essi ed entrerai in un nuovo modo di acquistare un computer. Apro una parentesi attinente proprio all'acquisto. Al termine delle lezioni sui configuratori, quale sarà il tuo passo successivo? Acquistare un computer? Beh, ti senti in grado di eseguire quest'azione in maniera del tutto autonoma? La risposta è sì? Allora sei un grande e la tua preparazione è molto avanti nel percorso. La risposta è no? Non ti preoccupare, potrei darti una mano in questo. Come? Tra poco pubblicherò un ebook chiamato in gergo Report. Una guida che ti aiuterà ad acquistare la forma mentale dell'acquirente in maniera informatica. Ciò ti eviterà di bere senza filtro il mare di informazioni così gagliardamente elargite, spesso studiate anche ad hoc, dal venditore per farti comprare ciò che rientra nei suoi piani e non quello che realmente ti necessita. Il risultato di questo incontro sarebbe per te una spesa verosimilmente sovradimensionata. Grazie a questa guida accederai ad alcune informazioni che la maggior parte delle persone non conosce sull'oggetto computer per capire ciò che devi acquistare tu. All'inizio della stesura avevo deciso di dare un prezzo di vendita alla guida, nella fascia tra i 10 e i 20 euro, in virtù del risparmio che avresti beneficiato dopo la lettura della stessa. Durante la scrittura e nei giorni seguenti mi medesimavo sempre più nell'acquirente e ricordavo le mie prime difficoltà nel capire alcune specifiche tecniche, ancorché disermanti per semplicità ora, ma per me difficilissime da comprendere circa 15 anni fa. Il risultato di questo film mentale è stato che ho deciso di regalarlo a chiunque voglia. Non solo, ma potrai tu stesso inviarlo a chiunque credi possa essere utile. A tempo debito aggiungerò alto sulle caratteristiche della guida con un articolo di presentazione su questo sito. Ma adesso torniamo a studiare però. Eravamo rimasti all'apertura della pagina web dove è presente il programma del configuratore che avrai scelto dopo la ricerca effettuata tramite il motore. Datti qualche secondo per capire la chiave di lettura della pagina web, in quanto troverai un'interfaccia tutt'altro che scarna, perché non sarà solo dedicata allo scopo di configurare il PC, ma sarà, come ho detto prima, un negozio informatico. Troverai anche altre informazioni quindi che ti distrarranno dallo scopo. Individua la zona verosimilmente al centro della pagina o più o meno spostato nella zona di destra dove poter accedere alla procedura guidata. Prima di iniziare, fermati ancora a qualche istante e guardando il monito fotografa la situazione. Poi immagina di osservarti da dietro o dall'altro e scatta una foto. Mi chiederai, perché? Se mentre immaginavi la scena ti è comparso un piccolo sorriso, allora credo che tu abbia capito benissimo cosa intendo. Ti servirà in futuro a fissare il tuo punto di partenza, il tuo start. Ora puoi partire in questa iniziazione informatica. Se le tue capacità di interpretazione sono elevate, non ci metterai molto a far tuo il metodo e dopo qualche minuto avrai grado la tua prima configurazione funzionante di un PC. Non ci riesci? Non ti demoralizzare, non te lo permettere. Proseguiamo insieme, sempre. Hai preso questo treno? Arriveremo alla stazione. Tranquillo, pazienza ed ostinazione. Cosa seleziono? Innanzitutto il tuo primo scopo non sarà ovviamente acquistare un PC determinato dalle operazioni che stai per eseguire, ma capire come funziona il programma. Smanetta pure senza problemi. Danni non puoi compierli. Le scelte sono reversibili, anonime e soprattutto non definitive per l'acquisto. Per comprendere il senso dell'operazione immagini di davanti allo specchio e con un armadio a fianco, da cui potrai prelevare le parti che compongono un vestito, diciamo da cerimonia, un matrimonio. Il tuo scopo è quello di indossare un abito completo, inserendo tutti i capi di abbigliamento partendo fin dai calzini slip. Il passo successivo è renderlo adeguato alla tua necessità del momento. Per la cerimonia, insomma. Se non sei l'attore principale, calza meglio una femmina, se non sei la sposa, pensi che potresti permetterti di presentarti alla funzione vestita in bianco e con lo strascico lungo? Saresti quantomeno inopportuna, non strutturata per la tua esigenza. Dovrai essere completa, adeguata e profigua. Ecco evidenziate le caratteristiche del tuo computer. Tutto questo è per dirti che all'inizio dovrai comprendere, realizzare cosa generano le tue selezioni nel configuratore, dopo affinerai la scelta comprendendo le caratteristiche dei componenti ed infine realizzerai la tua configurazione definitiva. Con un'indicazione immediata ti dico che la scelta più complessa sta nel decidere quale famiglia di processore scegliere. Ti rimando alle lezioni sulle schiere madri e processori se ancora non le ha sfogliate. Attualmente le maggiori famiglie in gioco in ambito dei processori hanno il nome di Intel e AMD. Questa sarà la tua prima scelta e genererà il flusso dei componenti partendo dai modelli della CPU, passando per le schiere madri e così via. Per darti qualche riferimento reale ho selezionato alcuni configuratori evidenziati nei risultati organici della ricerca eseguita con Google. Il primo che andremo a visionare è il configuratore Syspack dal sito omonimo. Al centro trovi il pulsante configuratore PC evidenziato con dei mattoncini di plastica colorati tipo quelli della marca Lego. Clicca sopra per accedere al configuratore o in alternativa potrai farlo direttamente da questo link. Bene, siamo sulla pagina di Google e digitiamo come abbiamo detto configuratori PC. Prendiamo proprio in considerazione il primo configuratore quindi nella prima lista e già ci troviamo al centro la possibilità di selezionare il tipo di computer da assemblare. Qualora non ti trovassi nella pagina dedicata al configuratore come in questo caso ma ad esempio in un'altra pagina dovrai semplicemente cliccare su questa icona per poter accedere alla configurazione. Qui potrai scegliere due tipi di selezione da poter eseguire. Come abbiamo detto noi siamo bravi e iniziamo a configurare il nostro PC su misura. Nelle colonne laterali a sinistra e a destra troverai tutta la serie di hardware che dovrai selezionare di volta in volta anche se c'è da dire che non tutto potrebbe essere necessario. In basso troverai eventualmente la possibilità di selezionare o meno questa casella che ti permetterà di risparmiarti l'assemblaggio del computer. Qui al centro invece in basso troverai il prezzo parziale e alla fine quello totale della spesa che dovrai affrontare. Ma partiamo. Selezionando con il tasto seleziona sotto CPU oppure al centro dovrai scegliere la CPU dalla lista centrale che ti si presenta. Qui al centro avrai evidenziati tutte le CPU disponibili attualmente presso questo negozio indipendentemente dalla famiglia AMD o dalla famiglia Intel e la disponibilità del componente presso il negozio tramite questo segno di spunta colorato. Cliccando su questa icona potrai visualizzare la scheda del prodotto. Ti si aprirà quindi una nuova maschera nel quale potrai trovare tutte le caratteristiche evidenziate di questa CPU. Tornando indietro avremo di nuovo in vista la pagina iniziale. Qui troverai il prezzo senza IVA e anche il prezzo IVATO. Se selezionerai uno di questi componenti dovrai cliccare su uno di questi pulsanti e automaticamente il componente scelto andrà a popolare la lista delle colonne di sinistra e di destra. Supponiamo di voler scegliere il primo processore che ci capita quindi non faremo altro che selezionare questo pulsante aggiungi alla configurazione. Ti faccio notare che il nome del processore e le caratteristiche sommarie sono evidenziate da questa stringa che poi ricordo avrai già ben visto in questa sezione della scheda del componente. Cliccando sull'immagine avrai un'anteprima ingrandita della foto dello stesso. Chiudendo tornerai in selezione. Aggiungiamo quindi questo componente alla configurazione. Qualora decidessi in qualsiasi momento di abbandonare la configurazione dovrai selezionare il pulsante cambia configurazione e dopo una conferma si resetterà tutto il configuratore e ricomincerai da capo. Oppure dopo aver selezionato il componente qualora tu voglia cambiarlo sarà sufficiente deselezionare questo pulsante eliminando il singolo componente tornando quindi alla selezione iniziale per la lista in questo caso delle CPU. Ma andiamo avanti quindi. Selezioniamo il nostro processore una CPU AMD. Ora selezioniamo altri componenti. come puoi notare i componenti con l'asterisco ovviamente sono obbligatori per poter assemblare un minimo di PC. Bene dopo aver selezionato il processore la CPU possiamo proseguire con gli altri componenti obbligatori. Di norma il dissipatore è presente all'interno della confessione ma qualora non fosse disponibile allora lo selezionerai andando ad individuare quello che ti necessita. Ora procediamo con la scheda madre. Come noterai il processore ha un socket quindi uno zoccoletto nel quale sarà alloggiato definito FM1. Come ti dicevo i filtri automaticamente selezioneranno solo ed esclusivamente le schede madri che forniranno capacità di alloggiamento a questo dato processore. Quindi non ti resterà che selezionare la scheda madre dopo aver scelto e aver magari visionato la scheda tecnica. Per semplicità e rapidità ne prendiamo una al caso dopo aver letto magari la scheda tecnica. In questo caso vedremo la compatibilità, la piena compatibilità dello zoccoletto con il processore. Questa invece è la marca della scheda madre Asus Tech in questo caso. Qui saranno evidenziate tutte le caratteristiche della scheda madre ma per il momento non le descriviamo. Torniamo al configuratore e quindi selezioniamo questa scheda madre che abbiamo scelto. Anche qui vedremo sarà posizionata alla sinistra della colonna. Andando avanti nella selezione scegliamo ora la memoria. Qui troverai scritte le marche delle varie memorie. Come al solito potrai scegliere quella che più si addice alle tue esigenze e in base alle caratteristiche potrai selezionare anche la quantità di memoria. Ad esempio questa è una memoria da un gigabyte di dr3. Come potrai vedere. Ecco qua. E questo è il prezzo ivato. diciamo che ci selezioniamo questa king song da 2 gigabyte una ddr3 con velocità a 1333 mhz quindi la aggiungiamo al configuratore e proseguiamo ora nella scelta dell'hard disk. Quella che fa da padrone essendo tutti di categoria SATA SATA 2 SATA SATA 2 con velocità alte possiamo scegliere in base alla capacità di memorizzazione. Qui evidenziata questo è 1,5 terabyte. Qui abbiamo un 120 gigabyte. Scorrendo più avanti possiamo trovare altri valori 180 gigabyte. Questa è il nome dell'azienda che produce questo tipico hard disk. Diciamo di selezionarne uno se lo troviamo da 1 terabyte. Ecco qua. Un Wester Digital dal prezzo di 71,40 euro. Ora andremo avanti nella scelta dell'unità ottica ossia il lettore CD, DVD, eventualmente anche il masterizzatore. Qui io selezionerei sostanzialmente solo in base alla fascia di prezzo. Quindi dato che questa periferica non è importantissima ai fini della piena funzionalità del sistema sceglierei uno di medio prezzo. Diciamo questo. Andiamo avanti nella scheda grafica. Qui ci perdiamo un pochino più di tempo perché la scheda grafica è abbastanza importante in base all'uso che ne farai del pc. Come al solito potrai scegliere il tipo di marca, se già sei ben ferrato, oppure in base alla scheda tecnica nella quale, cosa importantissima, sarà evidenziato il valore di memoria dedicata quindi propria della scheda madre che non andrà quindi a rubare la RAM che precedentemente avrai selezionato. Questa è una delle caratteristiche più importanti. Diciamo che questa può andare benissimo e quindi ce la selezioniamo. Come vedi inizia a prendere corpo il tuo computer. Infine, per semplificare il tutto andiamo a scegliere il case. Per quel che riguarda i cabinet, la cosa importante è evidenziare se all'interno è presente un alimentatore. Qui, come puoi vedere, i primi tre non presentano un alimentatore interno. Andiamo a visionare la nostra bella scheda tecnica. Qui abbiamo la rappresentazione grafica di quel che sarà il tuo cabinet e qui un minimo di caratteristiche. Qui puoi vedere evidenziata la tipologia di scheda madre installabile su questo case, che nella fattispecie è o una micro ATX o semplicemente un ATX. Torniamo indietro e direi di selezionare proprio questo cabinet. All'interno abbiamo visto non presenta l'alimentatore e quindi andiamocelo a selezionare. Se prendiamo in considerazione sempre il primo, diciamo che non è il caso proprio di prenderlo in considerazione in quanto presenta la capacità di fornire una potenza di un kilowatt e lo vediamo anche dal prezzo. Ovviamente noi non avremo bisogno di così tanta potenza. Un 5-600 watt sono più che sufficienti e anche in relazione al prezzo. Questo potrebbe anche essere più che sufficiente dal prezzo di quasi 26 euro. Andiamo a vedere la scheda tecnica e ci conferma quindi i 600 watt adatto per una scheda, madre, ATX, Intel, OMD. Poi saranno evidenziate anche altre caratteristiche ma per il momento comunque non interessiamoci più di tanto. Lo faremo man mano che andiamo avanti nel percorso. Quindi selezioniamo questo alimentatore e lo troveremo presente qua. Tutto sommato potremmo aver completato il nostro computer. Volevo farti notare questa sezione che fin tanto che non avevi completato tutti questi componenti obbligatori presentava un errore. Adesso che la configurazione è sostanzialmente definita abbiamo un'indicazione che dice che il personale tecnico effetterà una verifica della configurazione prima dell'approvazione dell'ordine qualora tu volessi acquistare adesso questo pc cliccando su vai al carrello per ordinare. Ma non è questo il nostro caso in quanto dobbiamo rendere visione delle potenzialità di questo strumento. Detto questo se vuoi puoi esercitarti di nuovo cominciando da capo oppure selezionare il tuo computer, stamparlo ed andarlo ad acquistare. Buon lavoro! Al termine di norma è sempre verificata dal negoziante tale configurazione. Ciò ti garantisce ulteriormente il risultato ottenuto. Quindi puoi andare tranquillo anche se il signor tranquillo ha fatto una brutta fine. Bene, nella prossima lezione continuerai a conoscere questo prezioso strumento grazie ad altri configuratori. Ora un grosso saluto. Ciao a presto da Carlo e dalla prossima.